Ciao a tutti ragazzi da Roberto a Gaudieri Channel Aspetta, volevo chiedere subito, ancora prima Il tuo nome? Cristian Cristian, sempre la domanda Ma da dove arrivi? Da Sansepolcro Aspetta un attimo perché geografia, io, Toscana Non so dov'è, dov'è? È in Toscana, provincia di Arezzo È pochi chilometri dal confine Columbria Quindi, chilometraggio? 389 mi sembra 300 chilometri Ovviamente, sempre, grazie anche a lui Che dà sempre la sua faccia, come tutte le persone Che si sbattono 200 milioni di chilometri Perché? Per fare la regolazione Però una cosa bisogna dire Non ha portato il Chianti Quindi è un problema Io gli ho fatto la regolazione, ma non mi ha portato il Chianti Quello è un problema Allora, detto questo, ovviamente Grazie ovviamente per la regolazione Perché il kit che adesso poi vado a presentare Il kit Sirium montato dal cliente Ma perché ti sei spattuto tutti questi chilometri per fare una regolazione? L'avevo montato Però, diciamo, l'ampiezza, la simmetria in qualche modo non mi convinceva E ho provato in tutti i modi Però, insomma, so che le fai parecchio bene queste cose Quindi ho preferito venire qui per dire non voglio guardarci più Erano troppe sere che ci guardavano Eh, immagino Mi sono perso il sonno io Bene, fa piacere che comunque una persona Per una regolazione Attenzione, non per un'installazione Che uno già dice Ah, mia, l'installazione C'è la regolazione, quindi ancora meno È venuto a spararsi più di 300 chilometri Andiamo a vedere che cosa è stato fatto su questa Twingo 2003 Faro, come vedete, come chi amanti del marchio Renault Io personalmente sono proprio un amante del marchio Renault Soprattutto i mezzi di anni 90 Kit Sirio in base H4 Problematica, problematica che poi, tra virgolette, problematica Di questo tipo di faro Che chiaramente ha i suoi anni Vetro opacizzato, purtroppo E nato per le asimmetrie delle lampadine precedenti Quindi già un'evoluzione dell'illuminazione a LED Chiaramente potrebbe creare, tra virgolette, di scompensi Quindi non hai la perfezione Questo prodotto applicato su questo tipo di faro Per esempio della Twingo Magari, non anzi magari Sicuro, kit Sirio Montato su Mini o montato su Jeep La nuova Renegade Top, favoloso Asimmetria col baffetto Fuori dal comune Perché? Perché la parabola che dovrebbe dare l'assimmetria È completamente diversa da quella della Twingo Quindi, purtroppo, la Twingo è un po' limitata Con il kit Sirio E o comunque con un altro kit Sempre a LED Bene, ragazzi Io spero Anzi, non io Lui Vi ha dato un'ulteriore informazione Ma 300 e pazza chilometri Ma cosa ci vuole? Due minuti Prendo un cacciavite Faccio così Ta 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 Il mio amico Peppino e Marietto Grande, che salutiamo sempre Me lo fa con 5 minuti Ta 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 Perché 300 chilometri, ragazzi? Perché? Probabilmente Non ha reputato che nella sua zona O comunque nella Toscana Ci fosse un professionista elettrauto meccanico Peppino e Marietto Grande sempre E che possa dargli una mano Quindi sicuramente Avrà visto lui Si sarà già informato Scusa Ho montato questi Me li regoli No, no Io queste cagate non le faccio Queste robe qua non le faccio No, tutto schifo Tutto merda Tutto Via Si è rotto le scatole Ho detto Mi faccio la vascata Vengo una volta da Roberto Amen Parto alle 6 di mattina Per venire qua Per poter fare La regolazione A regola d'arte Perché sono lì Che continuavo a toccare Toccare Non venivo a capo Effettivamente poi Alla fine Siamo riusciti ad avere Un buon compromesso Dandogli comunque Delle informazioni tecniche Bene ragazzi Come sempre Brand elettro discount San Zeno e L'Ambra Via Primo Maggio Civico 16 Zona Sud Milano Telefono fisso 02 98 26 0207 L'email info Chiocciola Eletro Segnomenodiscan.com Sito internet Eletro Segnomenodiscan.com Dove trovate lo shop online Con Metteremo anche la nuova Mia Nuova Twingo La vecchia Twingo Del 2003 Sullo shop Così potete Chi ha la Twingo Potrà acquistare il prodotto Ciao Alla prossima